Il prossimo Festival D'Annunziano che si terrà a Pescara dal 31 agosto all'8 settembre vedrà la partecipazione di un illustre rappresentante di Sulmona. Il 2 settembre alle ore 17 presso la Sala D'Annunzio dell'Aurum sarà presentato il libro Il Vate e l'Architettura Gabriele D'Annunzio tra Estetismo ed Eclettismo scritto dal professor Raffaele Gianantonio. Professore di Storia dell'Architettura presso l'Università D'Annunzio di Chiedi Pescara esplora nel suo libro il rapporto tra il celebre poeta e l'architettura analizzando come l'estetismo e l'eclettismo abbiano influenzato le opere di D'Annunzio. L'evento vedrà anche la partecipazione di Claudio Varagnoli professore di restauro presso lo stesso Ateneo e Paolo Lagazzi, noto saggista e scrittore. Il Festival D'Annunziano dedicato alla figura di Gabriele D'Annunzio offre un ricco programma di eventi culturali, conferenze e presentazioni di libri che permetteranno ai partecipanti di approfondire la conoscenza del bate attraverso diverse prospettive e discipline.